Dal Giappone, da Godence, vi presento un nuovo spoon, il Saito. Probabilmente una giapponesizzazione di Saito, di vista in inglese, un cucchiaino veramente molto visibile che ben si fa avvertire in acqua. Una forma particolare con questi rilievi elicoidali nella parte inferiore dello spoon che garantiscono grandi vibrazioni in acqua e quindi si fanno avvertire molto bene dalla trota e rendono attiva anche quella più svogliata. Il cucchiaino è molto compatto, si lancia veramente molto bene ed è prodotto in due grammature non proprio leggerissime, 3,6 grammi e 4,8. L'amo in dotazione è munito di microardiglione, quindi nel caso di utilizzo in competizioni traottarie è consigliabile cambiarlo, è molto robusto ma probabilmente è un cucchiaio che nasce per la pesca in acqui libere, grandi laghi e torrenti. Un cucchiaio che regge molto bene la corrente e ci consente di esplorare varie profondità della colonna d'acqua. Il Saito viene portato in Italia da SC Sport e troverete 10 colorazioni appositamente studiate da noi per le nostre acque, che infatti hanno la sigla ESSC Sport, S1, 2, 3 fino al 10. Corrazioni molto visibili, contrastanti, un lato e l'altro dello spoon, come vedete che sono colorati in maniera differente.